Con Maurizio Donelli, una caccia veramente speciale. Una caccia di dici, imprenditori, politici, personaggi dello spettacolo, dello sport, con i quali ci incontreremo via via nelle varie puntate. In Italia quasi ci si vergogna di dire che si va a caccia, tanto più se si è personaggi famosi. Loro invece hanno deciso di dichiarare la loro passione e noi siamo felici di farlo. A Caccia con, ogni mercoledì a L'Oro, su Caccia e Pesca. Tra poco, stelle azzurre su Caccia e Pesca. L'acqua per lei è un mondo da esplorare. Per lui tempo di cottura. Per lei un pesce è un fiero avversario. Per lui un ingrediente da rispettare. Lei usa tecniche per imitare la natura. Lui per trasformarla. Lei è Marika, la regina della pesca sportiva. Lui è Max, chef professionista. Due passioni, un nuovo programma TV. Lei pesca e lui cucina. Su Caccia e Pesca e Gambero Rosso Channel. Lei pesca e lui cucina! Da sabato 11 giugno alle 19.30. Lei pesca e lui cucina. 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 Lei pesca e lui cucina.